Suonare al cancello del Casteller, per entrare e verificare lo stato di salute dell'Orsa JJ4. Ha provato a farlo la Lega Antivivisezione, nessuno, come prevedibile, ha risposto. Così come nessuno, dicono dalla LAV, ha accettato di incontrarli alla provincia di Trento, che l'associazione ritiene responsabile dell'attuale situazione, per non aver fatto informazione e prevenzione, e per una questione riguardante proprio l'Orsa che ha ucciso Andrea Papi, il presidente LAV Gianluca Felicetti. Non ha nemmeno effettuato una sterilizzazione autorizzata dall'ISPRA sull'Orsa JJ4, che se fosse stata fatta due anni fa, quando era stata autorizzata, non avrebbe fatto nascere i cuccioli che poi l'Orsa ha difeso. La LAV si oppone anche all'abbattimento degli orsi problematici, dicendosi pronta a trasferirli in due santuari esteri. Uno è in Germania, l'altro invece è il santuario rifugio, che l'associazione austriaca Fierfoten gestisce in Giordania. Irreali per gli animalisti sono invece altre ipotesi, come lo spostamento di tutti gli orsi in eccesso in altri territori, ventilato dalla provincia. Impossibile per il responsabile animali selvatici Massimo Vitturi. Secondo noi non ha nemmeno consapevolezza di cosa vuol dire catturare 70 orsi e traslocarli in altre zone.